L'indagine sugli affidamenti diretti delle comune di Pesaro alle associazioni culturali Opera Maestra Stella Polare ha portato gli inquirenti a recuperare i contenuti delle PC in dotazione a Massimiliano Santini, ex responsabile eventi del comune, nonché uno dei tre indagati nell'inchiesta della procura. PC che in sede di perquisizione Santini aveva denunciato come smarrito. Un recupero di contenuti sollecitato più volte dall'avvocato Pia Perricci, candidata sindaco nelle ultime elezioni con la lista civica Vieni Oltre, è coinvolta sin dalla prima ora in una corposa serie di esposti alla ricerca della verità sulla questione. La scatola nera ritrovata non mi meraviglia, io ho fatto un accesso agli atti già da tempo, l'ho sollecitato ieri perché il comune non mi ha risposto, in quanto io ho chiesto chi è la dirigente che si occupa, parlo di la dirigente perché mi è stato già segnalato verbalmente il nome, che si occupa dell'accessione di questi strumenti del comune perché non viene dato soltanto un pc ma viene dato anche a tutti i dipendenti pubblici anche degli smartphone e dei tablet, al punto tale che verso fine mandato noi abbiamo ritrovato diverse persone che conosciamo, che facevano parte della giunta comunale che stavano andando a restituire. Allora la domanda che io ho posto sin dall'inizio è il comune in tutto ciò dov'era, come mai il comune non ha chiesto la restituzione di questi beni che sono acquistati comunque con i soldi dei cittadini, per cui questi beni essendo dati dal comune necessariamente sono collegati a un CED, per cui io non voglio credere che sia stata fatta una denuncia ad hoc di smarrimento. Però sicuramente dall'analisi di questa scatola nera si vedrà quando è stato acceso per l'ultima volta questo pc e dove. L'avvocato Perricci che da un mese ha strutturato la sua ricerca di trasparenza attraverso la neonata associazione Evolviamo confida sul fatto che la magistratura saprà far luce sulla vicenda. Ho assolutamente e assoluta fiducia nella giustizia, so che la magistratura con quelli che sono i suoi tempi, perché purtroppo ci sono delle burocrazie, perché perseverando e soprattutto non avendo la paura di parlare si arriva sempre alla fine e alla verità. Dico non aver paura di parlare perché è strano ed emblematico come io venga additata dalla sinistra e viene fatto un esposto da parte del sindaco e questo mi ha colpito parecchio perché ha utilizzato la carta intestata del comune, protocollandolo dal comune, un esposto nei confronti della mia persona dicendo che avrei leso l'onore forense. Il resto della cittadinanza pensa l'inverso, anch'io penso l'inverso perché non sono mai andata oltre e non ho mai offeso personalmente. Ho detto quelli che erano i miei dubbi e dalla destra c'è qualche componente della destra che si sta divertendo a denunciarmi per diffamazione a mezzo stampa. Io mi domando, è strano questo comportamento anche perché se il nostro fine, il nostro obiettivo era unico, cioè quello di avere la trasparenza, io credo che la destra magari mi doveva utilizzare come colei che ha portato avanti le iniziative giudiziarie prendendosi addosso anche tutte le varie responsabilità e sfruttare questa situazione per fare più chiarezza. Invece viene fatta guerra da entrambi i lati.